In fatto c'è qualcuno che comenta e domanda a qualcuno di dargli una garta per fare una famiglia di 6 gart. Grazie a Antea per la regola, ha un po' cominciato a partire la garta. Esa famiglia, Corsa in Deusaco, Agabretta, tutti questi ioggi antichi sono stati proposti a cittadini giovani per la vista della lingua gorsa. Di oggi, ma di nuovo amparerano con la visita di un museo. Abbiamo visto l'oggi di 100 anni, ma non sono le stesse che i nostri. E' stato aberto sul museo in 1985 dopo un trawaione di ragolta fatto dalla desecca. Nel 1970, questo giudice di unico la desecca è stato pregorsore nella lingua gorsa al principio del riacquisto. Fra altro, nel buccato F-Core, c'è anche la numerica che conta centinaia di parole. L'affare principale è così, con l'essere, era l'automobile nel 1978 e tutti questi l'essere fatti notati diversi, l'automobile, la meteorologia, la filosofia, la gas, messi una contro l'altra, hanno cominciato a costruirsi a Uanka. A tempo è nata a radio di Agosta Verde, Bocce Nostrale. Sporto, saluto e cultura si tratta di tutto e quasi solo in lingua gorsa. A lingua gorsa, un è parlato di prossimità, in paese, biginaiante, un è parlato a suggiadiwa, un spirito magnifico e questa lingua gorsa che dice assai brisante. A lingua gorsa, un è parlato di più parlato della Daudia Uva in della Deseq.